Stanno tentando qualcosa di incredibile ma anche di pericoloso Veramente molto molto audazze E questa volta è l'unico pazzesca scherzata per il premio Naja che si vende un 9 e un 9 Intentativamente l'unico è l'unico serve il ritmo e tutti i femminili mette ci ripona e va! Con una scherzata che ci ricorda di alto velocino come l'Ukriptis Proprio nuovo e un nuovo anche con un unico entusiasta Siamo su punteggi altissimi, veramente notevoli